Buongiorno a tutti, siamo arrivati al 16 gennaio 1943 nell'analisi, nella lettura, nel commento del diario del maresciallo Ugo Cavallero qui ogni giorno purtroppo abbiamo degli elementi drammatici se non ci fossero persone che muoiono potremmo dire che c'è una situazione comica in realtà è tragica più che comica e questo non ci può portare che ad amare considerazioni 16 gennaio telefona Riccardi informando che l'Emma e l'Ancara sono stati attaccati l'Emma silurato ed esploso poi la scorta ha dovuto lasciare l'Ancara che va verso Palermo per ragioni di tempo Convoco il colonnello Ciccodicola Sospensione e produzione semoventi da 47 Ricevo Riccardi Situazione in Africa settentrionale Ammiraglio bianchi, piroscafi ancora esistenti nel porto di Tripoli Ricevo Castering Riccardi e Sanzonetti Castering consegna a Riccardi e a Sanzonetti la grande croce tedesca di Marina Per i meriti acquisiti sul campo Che poi sia Castering Vabbè Castering è il comandante superiore dello scacchiere In qualche modo a voce in capitolo Assicura che il Führer sa tutta l'attività e i sacrifici della Marina Italiana Specie per le scorte Riccardi ringrazia e considera questa decorazione come data a tutta la Marina Italiana Ne riparliamo da qui a sette mesi Castering passa poi a parlare dell'affondamento del dannunzio Ed esprime il parere che sia frutto di spionaggio da parte degli ebrei di Tripoli Informa poi che i due terzi degli equipaggi delle navi tedesche E' costito da francesi muniti di regolari documenti Non so, non possono essere i francesi o non possono essere altre cose Solo gli ebrei di Tripoli Telefona il Duce chiedendo le novità Rispondo che il convoglio Emma è stato attaccato e l'Emma è stata affondata L'Ancara ha proseguito per Palermo senza scorta Perché il tempo non permette a questa di continuare il servizio Il console di Algeri ha dato notizie precise sui risultati di un attacco Fatto dai nostri mezzi speciali della Marina l'11 dicembre scorso La Marina già lo sapeva ma attendeva conferma Aggiungo, virgolettato Le operazioni in Libia vanno bene Nella notte dopo la battaglia è avvenuto il distacco Il nemico non ha inseguito Quindi andare bene significa che non abbiamo avuto difficoltà nel ritirarci Questo è il concetto di Cavallero In seguito alla disposizione di lavorare in posto i carri e i mezzi che si potevano trovare in Tunisia Sono rimasti a Rommel i seguenti mezzi 34 carri, 10 cannoni, una batteria leggera, una pesante, una contraerei e 12 pezzi da 20 Quindi l'efficienza di Rommel non è menomata Quindi l'efficienza di Rommel è con queste cose che vi ho elencato qua L'Ancara ha avuto uno spostamento del carico e quindi all'arrivo dovrà riassestarlo Intanto partono due convogli Uno lento, di tre navi Uno veloce, col di lana e rur Oppure chisone Marras ha inviato una relazione Marras l'ha detto Milità Italiana a Berlino Voi avrete letto la prima Ora vi sono altre notizie Da Marras arriva domani una relazione completa Aveva chiesto se poteva venire Io proporrei di sì Circa l'avanzamento degli ufficiali tedeschi Ieri il maresciallo Kessering ha spiegato bene di che si tratta Il tenente colonnello Caturna ha il comando di divisione Quello che si raccontava qualche giorno fa Secondo la nuova legge tedesca avviene che il capitano può comandare un reggimento Ed essere promosso colonnello se fa bene per quattro mesi in guerra Un tenente colonnello può comandare la divisione dopo quattro mesi di guerra è promosso G.A. di brigata E dopo altri quattro mesi promosso G.A. di divisione Carriere lampo Per noi sarebbe un po' forte come punto di partenza Abbiamo certe leggi e si teme di andare al Senato e sentire parere contrario Ma il discorso, adesso voglio fare un discorso sulle carriere Ma io dico, ma non è possibile fare le carriere normali Nel senso che un generale di divisione che deve comandare la divisione Un generale di brigata deve comandare la brigata Un colonnello deve comandare il reggimento Un maggiore ottenente colonnello comanda un battaglione Se ci sono le necessità si va ad avanzare Non è che un ottenente colonnello deve andare a comandare una divisione Io adesso non capisco perché in Germania ci potesse essere un avanzamento così repentino Nello scavalcare i gradi Io mi rendo conto che in tempo di guerra vi è una penuria anche di comandanti Però dico, se vi è una regolare immissione di quadri nelle filiere Anche nell'avanzamento Io ritengo che questi eccessi non dovrebbero avvenire Poi in questo caso Cavallero pone dei dubbi che secondo me sono condivisibili Visto e consigliato che nonostante il tempo di guerra Nonostante tutto quello che sappiamo del regime In qualche modo qui tira l'acqua al discorso di un iter legislativo Che in qualche modo andrebbe a toccare il senato Solo ieri parlavo della nomina di un generale E mi hanno risposto che la finanza può fare difficoltà Con questo concetto si conclude niente e si perde tempo Nel merraneo occidentale è annunciato un convoglio di 10 grosse navi Con 12.500 uomini Metto ciò in relazione alla memoria che vi ho mandato ieri a riguardo E finisce il virgolettato Il Duce chiede notizia circa l'esodo dei comandi tedeschi Rispondo, virgolettato Ho già fatto le pratiche necessarie perché sgombrino Sono già molto avanti in questo Finisce il virgolettato Il Duce poi richiama la mia attenzione sul colloquio Thomas Montgomery E conclude approvando che Marras venga Da Bologna vado alla Rocca delle Caminate Si passa poi a parlare dello stato maggiore misto per l'Africa settentrionale E io presento lo specchio in cui si propongono i compiti Elaborazioni direttive e ordini operativi Completamento delle grandi unità Rifornimento e trasporti marittimi, aerei e tedeschi E la composizione Cavo di Stato Maggiore Generale Gandin Segreteria, operazioni e ordinamento Ufficio Trasporti Kesselring non concorda E afferma che dato che nota una organizzazione tripla Occorre che molte cose siano decise direttamente Rispondo affermando che mi permetto parlare con franchezza Che non devono esistere due comandi superiori Ovviamente Kesselring tira l'acqua al suo molino Come del resto del cavallero Noi abbiamo chi fa il lavoro di dettaglio e poi tutto confluisce al Comando Supremo Posso concordare sulle sue proposte Solo per quanto concerne i trasporti Ma non per il resto Telefono è il Duce Incaricando di fare un elogio a Romer Per le genti azioni Comunico ciò al Mareciallo Kesselring Il quale dice che sarebbe meglio attendere A suo parere Romer l'ha fatto bene Ma non completamente Perché avrebbe dovuto fare non solo azione difensiva Ma anche attaccare Passa a dire poi che è costretto ad inviare in Tunisia Munizioni di fanteria per via aerea In seguito a un SOS che ha avuto Informa poi che il Führer ha disposto per l'invio Alla caucaso di 150.000 tonnellate di materiali con due navi Ma ciò non inciderà sui trasporti in Tunisia Così dicono Lo informo che Bastico Evita di sfruttare le motozzattere Per il trasporto di materiali di sgombero E che occorre dare una piccola spinta Al colonnello Heidel Per invio di farina a Tripoli Assicura che ogni giorno Vanno 120 tonnellate di farina Non so quanto possano essere sufficienti Per l'armata corazzata Ha messo a disposizione inoltre 50-60 tonnellate di carburante Per la Luftwaffe Ha già dato a Bastico 200 tonnellate di benzina E si prepara a darne altrettanto Ma Bastico a sua volta non gli dà il gasolio Bisognerebbe fare cassa comune E questo lo ho già detto a Bastico Qui c'è un impressionante egoismo Riprendo il colloquio E che essere mi consegna il seleguente Appunto per il Duce Vediamo cosa consegna Cioè inizia il virgolettato Duce Vi annuncio il mio ritorno dalla Germania Il Führer ha accolto con vivo interesse La mia comunicazione Sulle condizioni della vostra salute Egli mi ha incaricato di porgervi I suoi più fervi di voti Di pronta e completa guarigione Egli annette il massimo valore A un prossimo diretto scambio di vedute Le vedute del Führer Sulla situazione militare e politica Nel bacino del Mediterraneo Collimano con le vostre L'irruzione russa nelle posizioni germaniche Italiane e romene sul Don Ha creato una situazione Che esige la sua particolare attenzione Situazione che egli è in procinto Di ristabilire Grazie al pronto invio di riserve Nonostante la grave minaccia Che attualmente incombe Il Führer guarda ai futuri eventi Con assoluta tranquillità Se non che In seguito all'irruzione nemica Sul territorio del Don Il Führer ha dovuto decidere Il trasporto in Russia Di formazioni della più alta efficienza Perfettamente pronte Per l'attivo impiego E perciò immediatamente utilizzabili Tale decisione modifica Sostanzialmente Almeno per ora Il suo piano riguardo L'invio di tale forse a Tunisi Come voleva dimostrare Quindi abbiamo L'ennesima riprova Di come il fronte mediterraneo Sia sostanzialmente La cenerentola Della strategia tedesca Il Führer rimane Tuttavia Del parere Che la testa di ponte di Tunisi Debba essere Non soltanto mantenuta Ma anche ampliata Il più presto possibile Quando va D'altro canto Egli ritiene Che l'armata Corazzata italo-tedesca Debba gradatamente Ripiegare Combattendo Nella zona della Tunisia Meridionale Senza pregiudizio Della cessione Dell'uno o dell'altro Reparto Il Führer Mi ha confidenzialmente Comunicato Di avere deciso Già da settimane Il richiamo In parte di Rommel A ripiegamento Ultimato Nonché la sua Assegnazione Ad altro impiego Quando si sarà Ristabilito In salute Per quanto Concerne La zona Tunisina Il Führer Considera Di particolare Importanza Una sollecita E possente Organizzazione Della posizione Maret Gabès E la protezione Della sua Ala destra Quanto all'invio Di nuove forze Il Führer Intende inviare Contemporaneamente All'aggruppamento Delle unità Che già si trovano Nella zona italiana O sono già in marcia Verso di essa Da due a tre brigate Miste Il cui impiego Sul fronte Permetterà Il completo Sganciamento Della decima Divisione corazzata Di elementi Della divisione Goering Già impegnati E un rafforzamento Dell'ala sinistra Subito dopo Verranno trasportate Della divisione Goering E la sedicesima Brigata Bah Oltre a ciò Le unità Dell'armata Corazzata Rommel Debbono essere Reintegrate Ma con cosa Bah Il Führer Si riserva Oltre ore misure Fino al completo Sviluppo Dei suddetti Movimenti Non meno di voi Duce Il Führer Considera necessario L'ampliamento Della testa Di ponte Sull'ala sinistra A partire Da Gabès Fino alla frontiera Tunisina Se si riuscirà A sganciare Dal fronte Le forze Motorizzate Tale ampliamento Dovrebbe essere Possibile Con le forze Che saranno Allora disponibili Campacavallo Relativamente Alla zona Dell'Egeo Il Führer Vede Precipuamente Minacciati Rodi E il Peloponneso La cessione Di cannoni Per la zona Greca Viene esaminata Dal Führer Con la massima Benevolenza Egli Ritiene Pure necessario Un rafforzamento Della difesa Di L'Amnos Le disposizioni A tale riguardo Sono già state In partite Permettetemi Duce Di unire I miei voti Personali Per la vostra Quarigione Firmato Cassery E finisce La citazione Quindi Torniamo a Cavallero Presiedo Una riunione Qui partecipa Anche Ost Venturi Questi In forma Di aver preparato Un progetto Dal quale risulta Che i mezzi Trasporto Per la Sicilia Non sono sufficienti Di fronte Ai bisogni Della popolazione Civile E delle forze Armate Piove sul bagnato La razione Di viveri Di gennaio Non è ancora Distribuita Mancano I foraggi Con grave danno Del patrimonio Zootecnico Ricevo Ambrosio Lettera da me Inviata Di circa Il colonnello Fioravanti Affermo Che essa Conteneva Anche una mia Direttiva Ed è Nel mio diritto Darne Lo prego Di correggere La frase Non ho nulla In contrario Perché non ho Chiesto un parere Io ho una funzione Di tutela Generale Se sbaglio Prego venire da me E dirmelo E prego Non scrivere Tali cose Qui abbiamo La ennesima Gelosia Tra Comando Supremo E Stato Maggiore Dell'Esercito Sappiamo che Da lì a pochi giorni La situazione Cambierà Perché Cavallero Verrà cacciato E verrà preso Il suo posto Proprio da Ambrosio E poi capiremo Come Ambrosio Avrà altri problemi Prendendo proprio Il posto Di Cavallero Una sorta di ruota Telefono al Generale Magli Che si è trasferito Al centro Magliana Da alcune ore Problema Dell'Albania Difficoltà Politiche Occorre dare Al nuovo governo La possibilità Di costituirsi Delle forze Inoltre Occorre Studiare La possibilità Di trarre forze Dal Montenegro Occorrono Almeno Altre Due Divisioni Telefono All'eccellenza Iacomoni Costituzione Di grande unità Per l'Albania Raccomando Di valorizzare Il raccubbamento Cioè Sappiamo che pure Iacomoni Farà Una Rapida Sortita Dalla posizione Dell'Albania Sappiamo come In Albania Verrà Rapposta L'opzione Pariani Con tutte le incognite Che sappiamo Diciamo che l'Albania Sarà Un problema Un problemone Da lì Ai mesi A venire Per ordine Del Duce Telegrafo Al Maresciallo Bastico Ecco il telegramma Duce Abbeat Seguito Con molto interesse Svolgersi Avvenimenti Questi ultimi giorni Sul fronte Buaratta Et Esprime Suo compiacimento Per lezioni Inflitta At nemico Alta Egli ritiene Sempre più Che impiego Deciso Unità mobili Da esplicarsi Non solo Con vigorosa Azione Di contenimento Ma anche E soprattutto Con Appropriate Azioni Controffensive Rappresenti Il metodo Indispensabile Per condurre Questa delicata Manovra Nel modo Che è stato Ordinato Alta Firmato Cavallero E quindi Sostanzialmente È sempre La stessa Storia Non dovete Soltanto Difendere Ma dovete Anche Contrattaccare Per mantenere Il più ampio Circolo Di manovra Nella 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 Zona Tunisina Solo che abbiamo Tanti problemi Siamo accerchiati I rifornimenti Non arrivano Il predominio Aereo navale È quello alleato Ci sono problemi Politici Ci sono problemi Di coordinamento Ci sono problemi Di ogni Tipologia Di ogni Sistema In A ogni latitudine E quindi Non potrebbe Andare Peggio Quindi questa È una situazione Che andrà Sempre Purtroppo Sempre 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 Peggio Si attendono Seguiti Con i prossimi Giorni Detto questo Come al solito Vi invito a mettere Mi piace Iscrivetevi Al canale Se non avete Notizie di me Nei prossimi giorni Non vi preoccupate È sempre il solito Discorso Che in qualche modo Mi devo organizzare Perché Vado avanti Indietro Da sopra Da sotto A destra E a manca Quindi Non ho sempre La possibilità Di essere costante Come vorrei Però non vi preoccupate Che poi l'estate Finirà E quindi In qualche modo E come sanno I più attenti A settembre Uscirà Il mio prossimo libro Quindi in qualche modo Avremo anche Delle interessantissime Novità Sotto Anche il piano Di combinazione Tra quello che vado A scrivere E pubblicare E quello che vi Poi i contenuti Che vi ribalto Sul canale Quindi mi raccomando Mi piace Iscrivetevi al canale Alla prossima Ciao Ciao